Prosegue la battaglia che si proterrà anche fuori il Consiglio Comunale per quanto riguarda l'ODG sull'autonomia differenziata bucciato in assise comunale lunedì scorso. Per l'opposizione è scandaloso ciò che è avvenuto in Consiglio con l'assenza del Sindaco e degli Assessori, così il Consigliere del PD Stefania Pezzopane ai nostri microfoni. L'autonomia differenziata cambierà il destino dell'Italia, del Sud, dell'Abruzzo e delle aree interne. Abbiamo voluto promuovere un dibattito a più voci, non isolandoci ma anzi dicendo a chi sta governando, quindi ai nostri parlamentari della maggioranza oltre che a quelli di minoranza, ai nostri rappresentanti in regione della maggioranza, cioè del centro-destra, di venire a dirci le ragioni per cui lo stanno mandando avanti, se ragioni ce ne sono, a farci capire quali sono i vantaggi. E invece non sono venuti, quindi non ci sono vantaggi. Probabilmente si vergognano di venire a un confronto in Consiglio Comunale in cui noi avremmo detto guardate che ci tolgono i soldi e loro cosa avrebbero detto? Forse proveremo a non far togliere i soldi, nemmeno questo ci hanno detto. Quindi niente sindaco, nessun intervento della giunta, nessun parlamentare della maggioranza di destra, nessun assessore regionale o consigliere regionale della maggioranza di destra, cioè quelli che stanno portando avanti questo decreto Spacca Italia non lo vengono nemmeno a difendere in Consiglio Comunale. È inaccettabile, pertanto noi continueremo la mobilitazione anche con eventi pubblici, magari anche proprio davanti al Consiglio Comunale, davanti al Comune, perché è inaccettabile. Se davvero prima delle elezioni europee il decreto Spacca Italia verrà approvato, ci troveremo di fronte a una rapida dissoluzione dell'unità del Paese e qui ci saranno delle complicità. Noi vogliamo evitarlo fino alla fine. Grazie a tutti.